Festa Benevento, il Benevento conquista per la prima volta nella storia la promozione in serie B. Gli stregoni con merito hanno vinto il campionato di Lega Pro. Lo stadio Ciro Vigorito è stato una vera bolgia nelle partite casalinte. La squadra sannita di Mister Auteri, trascinata dalle reti di Mazzeo Marotta, Cisse Ciciretti e dalle partite sontuose di Melara, Lucioni, Del Pinto, De Falco, Matera, Pezzi, Gori, Padella, Mazzarani, Troiani, Campagnacci, Lopez, Di Molfetta e tutti quanti gli altri giocatori ha regalato un sogno alla tifoseria sannita del Benevento. Ora si spera in un'esaltante stagione nel prossimo campionato di serie B. Complimenti al Benevento!